devo dire la sincera verità se fosse stata una giornata normale oggi o un momento storico normale della roma sarei imbufalito imbufalito non tanto per l'eliminazione perché tratta l'eliminazione alla fine era era scontata ma ancora di più per la prestazione di questa sera della roma che faceva parte un po anche l'istoricamente delle solite partite del cuore che fa quando butta al vento le qualificazioni e nella gara nella gara d'andata ma proprio perché la squadra di di fonseca ha rovinato tutto nel secondo tempo di di manchester la possibilità di poter lottare fino alla fine c'era e avrebbe potuto averla la squadra di la squadra di fonseca oggi hanno vinto ha vinto 3 a 2 3 a 2 sul campo ma una prestazione comunque buona ha rischiato naturalmente hai sempre di fronte una squadra una squadra molto molto forte ma certamente attaccabile una squadra che poteva essere affrontata e doveva essere affrontata nella maniera migliore nella gara di andate in quel secondo tempo maledetto in cui veramente è successo di tutto e di più dove c'è stato dove si è veramente spenta totalmente la luce nella squadra è stata in balia in balia dell'avversario ecco dicevo se fosse stata una giornata normale in un momento normale mi sarei imbufalito devo dire la sincera verità che l'ho invece vissuta con assoluta con assoluta tranquillità e poi questo è l'effetto murigno è l'effetto veramente murigno perché io con la mente già sono proiettato all'arrivo comunque di murigno a a roma all'inizio del del campionato già sto facendo il conto alla rovescia per arrivare al 21 di agosto perché sono certo che questa è la grande occasione che possiamo avere per poter dare veramente una una svolta e cercare di 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 ottenere qualcosa qualcosa di concreto insomma un allenatore che è stato uno per me è uno dei più odiati in assoluto e adesso invece ce l'abbiamo ce l'abbiamo noi è odiato anche perché l'odiavo perché sportivamente naturalmente perché aveva quel tipo di 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 atteggiamento un provocatore è uno che è un rosicone va benissimo adesso ce l'abbiamo noi ed è riuscito a dare questa questa scarica questa questa voglia di ricominciare di riprendere voglia di roma e che ci ha tolto veramente da questo da questo torpore che ci stava veramente ci stava affliggendo ecco ci stava buttando a terra e invece per fortuna insomma l'arrivo questa questa scarica di adrenalina che ci hanno dati fretkin con con l'ingaggio di murigno non può che essere non può che essere positiva e quindi va eh adesso proiettato il pensiero alla alla prossima stagione tanto non è che ci vorrà molto all'inizio della prossima stagione ma intanto proprio all'arrivo di di murigno a roma dovrà incidere inciderà tanto eh sulla sulla squadra e quindi anche tanti giocatori che a parte sicuramente conoscerà ecco molti l'arrabisti anche all'opera questa questa sera abbiamo visto questa sera altri infortuni muscolari quindi bisognerà incidere molto sulla questione sulla preparazione atletica su quelli che sono le persone che comunque lavorano lì e lì a Trigoria e quindi pensiamo e già sto pensando insomma a quello che sarà nella prossima quello che avverrà nella prossima stagione fermo restando che insomma vorrei cercare di poterle vincere insomma queste ultime queste ultime partite queste ultime gare con i resti dei giocatori che sono che sono a disposizione quindi partite con squadre che già sono sono salve o comunque chi quello che è retrocesso chi è salvo chi ha vinto già lo scudetto però una in modo particolare insomma non mi dispiacerebbe vincerla contro la squadra del del re dei tamponi quindi adesso insomma cerchiamo di concentrarsi almeno di finire e finire in maniera più che decorosa almeno questo questo finale di stagione e poi proiettiamoci all'inizio dell'era murigno un abbraccio a tutti quanti voi e sempre 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 forza roma forza roma forza roma